Siamo con Pierluigi Castagnetti, già segretario del Partito Popolare, il ricordo di Giuseppe Bartolomei. Uno dei leader più importanti della seconda generazione della democrazia cristiana. La prima generazione è quella rappresentata da De Gasperi, poi è arrivata la generazione dei Fanfani, Moro, eccetera, e lui era di fianco a Fanfani, era l'uomo di cui Fanfani aveva bisogno per integrarsi, per essere in un qualche modo complementato sul piano del carattere. Quanti liti gli ha evitato e quanti... Considerando anche il carattere di Fanfani. Ha bisogno di un uomo come Bartolomei, che era un uomo di costruzione, oggi si dice costruttore di democrazia. Sì, lui, Bartolomei era un uomo politico colto, dotato di uno spessore umanistico straordinario e di una concezione della politica come lo strumento per costruire coesioni, costruire intese, costruire mediazioni, costruire punti di convergenza. La politica in quegli anni, negli anni di Bartolomei, aveva questa missione ed era riconosciuta per questa missione dai cittadini, dagli elettori. Quando ha cominciato a ritenere invece la politica, che la sua missione sia quella della conflittualità, la gente non ha più... ha smesso di appassionarsi. Perché la politica, che cos'è? È lo strumento per organizzare la convivenza fra le diversità. Se non è questo, che cos'è?